Il tecnico del Milan Gattuso si prepara alla trasferta a Genova contro la Sampdoria In conferenza stampa l'allenatore ha chiesto una reazione alla propria squadra dopo la sconfitta nel derby Dobbiamo avere la consapevolezza di andare a giocare contro una squadra che ci ha già messo in difficoltà quest'anno Davanti a giocatori incredibili, dietro prende pochi gol ed è allenata da un grande tecnico Servirà una grande partita Abbiamo lavorato bene in questa settimana, c'era grande amarezza dopo il derby ma ci siamo allenati bene Voglio vedere il solito Milan che non fa regali Dobbiamo tornare ad essere la squadra che si è vista negli ultimi mesi, meno bella ma che non soffre gli avversari Gattuso commenta poi il possibile ritorno di Vialli in Serie A, alla presidenza della Sampdoria Se ti rispondo, si offende Ferrero È stato un grande calciatore, un uomo di sport, amato dalla gente Rimane l'uomo, un personaggio unico, fantastico, squisito da ascoltare Punto È stato un grandissimo giocatore ed è un grande uomo e personaggio Il giorno è un man чемace per aver guardato l' trofinito di te Sì non è solo il personaggio Grazie un andamento per aver guardato il patro Io mi от hiabil'e Sì non mi dico